Abbiamo il lato Amarcord, siamo riusciti a recuperare un filmato e abbiamo, niente poco di meno che è come operatore, il sindaco Paolo Lupini, sì! Il nostro Amarcord si svolge un po' più recentemente, diciamo 20-30 anni fa. Sì, 20-30 anni fa. Allora, la fila armonica di Vogenza, diretta dal maestro Roberto Maleniani il nostro Amarcord! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!